Io spero che si faccia una legge elettorale condivisa, non come quella ultima che non era condivisa, e che insieme sia seria, sia sostenibile e quindi assicuri un governo e assicuri un rapporto corretto con i cittadini. Mi convince meno questa corsa così furiosa verso il voto, non perché non bisogna andarci, ormai ci siamo, ma perché a furia di fare così in fretta sembra che il vero obiettivo sia votare subito e non fare le cose utili per il Paese. Invece bisogna votare e fare prima le cose utili per il Paese. Su questa questione dei formi istituzionali c'è un problema molto forte. In molte amministrazioni locali lavoriamo assieme, il tempo dirà se c'è la possibilità di recuperare questo rapporto. Ma il sindacato non è che rappresenta tutti, il sindacato non ha il compito di rappresentare l'imprenditore, rappresenta il lavoratore, rappresenta il precario, il giovane, quindi è evidente che non tutti possono essere rappresentati al sindacato. Il sindacato è una parte e quindi l'importante è che rappresenti bene questa parte, tutto qui. Non puoi chiedere al sindacato di avere la totalità dei consenti, non è mai avvenuto. Grazie.